Il direttore generale della Delfest Avellino, Paolo Rotundi, commenta il calendario dei lupi del basket. Per il dirigente avellinese, il fattore casalingo dovrà essere l'arma determinante per i ragazzi di coach Benedetto, perché nel giorno di andata verranno in Irpina le corazzate rosse, i tre caserte e dare un segnale al torneo potrebbero regalare la giusta scossa al pubblico. Il calendario ci mette subito di fronte alla necessità di capire che squadra abbiamo costruito. Quindi effettivamente l'esperienza, la profondità della Rosa per poter affrontare delle neopromosse come Corato, Juve Caserta, Sala Consilina, che verranno con entusiasmo, che hanno fatto di buoni roster, con molti tifosi al seguito. E poi tutte di fila in casa, Rosito, Sant'Antimo, Salerno e Bisciglie, che sono squadre attrezzatissime per qualcuno ovviamente come Rosito, anche per il salto di categoria. Quindi banco di prova fondamentale per il roster, per i giocatori, per capire se quest'anno abbiamo quell'esperienza in più per affrontare questo tipo di partite in casa e per il pubblico, perché ovviamente sono tutte partite di cartello in casa da vincere assolutamente per poter cominciare bene. Sullo girone invece il DG è convinto dell'equilibrio che regna all'interno dei roster e ribadisce che iniziere bene tra le muramiche il campionato contro Corato. Darebbe ai lupi la giusta serenità per affrontare poi i match di cartello. È un girone, come abbiamo detto, che è comunque equilibrato. Non c'è una visione, una lettura da poter fare facile o difficile assolutamente, perché, ripeto, affronteremo neopromosse in casa, nell'ordine Corato, Juve e Sala, e poi quattro pretendenti come noi ai playoff, se non qualcosa in più. Quindi sarà fondamentale, ovviamente, impattare subito in maniera determinante, sin dalle prime giornate, cercare di fare più punti possibili, soprattutto in casa.